Cavalli record gran premi, ma l'ippodromo sesana di Montecatini è fatto anche di persone, in questo caso di famiglie, non mi riferisco soltanto alle dinastie dei driver. Sull'anello termale operano da sempre, da ben 104 anni, i rosellini, fotografi di professione, ma anche fotografi letteralmente innamorati di Montecatini e della Valdinievole. Tutte le foto storiche della città portano la loro firma, compreso ovviamente quelle scattate alle corse. Carlo Antonio ha reeditato la macchina fotografica e la passione per il cavallo dal papà e da 61 primavera occupa un pezzo di pista che si trova nei pressi del palo di arrivo. Carlo qui siamo un po' nel tuo regno, dal 59 che ti frequenti l'ippodromo di Montecatini, l'ippodromo sesana con il primo gran premio città di Montecatini che hai visto, ma insomma la famiglia è da oltre 100 anni. Sì, proprio così dico. Il mio babbo ha fatto le fotografie nel 1916 durante la costruzione dell'ippodromo e siamo sempre stati noi qui a lavoro. Oggi sono proprio 104 anni che noi lavoriamo nell'interno dell'ippodromo. Ne avrai viste di tutti i colori, ti ricordi qualche episodio particolare in tutti questi anni? Ma sai, gli episodi ce ne sono tanti. La cosa che mi ha sempre appassionato è il lavoro con cavalli, stare intorno a cavalli perché è una cosa veramente stupenda, meravigliosa e che ti dà soddisfazione. Lo scatto più difficile che hai dovuto fare in tutti questi anni? Ma sai, gli scatti più difficili sono momenti, a volte arrivi stretti, fatti giù di terra e se perdi l'attimo non ti viene l'arrivo preciso. Ce ne sono stati diversi di scatti particolari. Tu ne dovessi ricordare uno in particolare invece bello che ti rimane nel cuore, che è rimasto nel cuore? È uno bello che mi viene rimasto nel cuore, è un cavallo di poco pregio che era mio, fece una corsa stupenda, riuscì a fargli lo scatto sul palo mentre vinse in foto molto stretta e questo cavallo era Furetto P. La tradizione poi continua però, c'è anche il figliolo in pista. Sì, la tradizione continua perché dal 1990 è sceso un pista anche mio figlio con la stessa passione, molto bravo perché sta facendo delle cose veramente stupende, ne sono veramente orgoglioso e contento.